È finita nel sangue la diatriba tra due rivali in amore, entrambi di Porto Sant'Elpidio. Un 63enne è arrestato dai carabinieri grazie ad un'indagine lampo e a domiciliari dopo aver colpito alla testa con un martello un uomo di 53 anni colpevole soltanto di aver intrapreso una relazione con la sua ex. La gelosia per quella donna lo ha cecato a tal punto da armare la sua mano e colpire l'altro quasi a morte. Un rancore che si è trasformato in una violenza cieca. Un episodio gravissimo, quello avvenuto nel pomeriggio di mercoledì nella centralissima via Trieste davanti agli occhi increduli e spaventati dei passanti. Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri grazie ad alcune testimonianze, il 63enne si sarebbe avvicinato alla vittima mentre passeggiava e avrebbe improvvisamente estratto un martello sferrandogli un colpo al capo che lo ha lasciato a terra sanguinante. Il ferito, soccorso in condizioni gravi dal 118, dopo un primo trasporto al murri di fermo è stato trasferito nelle ambulanze al Torrette di Ancona, dove si trova attualmente in rianimazione e in prognosi riservata. L'assalitore, allontanatosi dal luogo dell'aggressione, è stato rintracciato subito dopo dai carabinieri di Porto Sant'Elpidio. Era ancora armato ed è stato arrestato in flagranza di reato. Il 63enne per il momento deve rispondere di lesioni personali gravissime e Porto Ingiustificato di strumenti atti ad offendere, dato che è stato trovato in possesso anche di due grossi coltelli da cucina e una chiave inglese nascosti nel suo zaino. I militari dell'arma del Fermano indagano anche per due auto andate a fuoco nella notte a Monte Granaro, a mezz'ora di distanza l'una dall'altra. Grazie a tutti.